Consegnati a Teramo i lavori per l'avvio della seconda fase del recupero del Teatro Romano, il Comune nei giorni scorsi aveva approvato uno stralcio dell'intervento destinato a riqualificare l'area archeologica. Il primo passaggio sarà quello di avviare i sondaggi nella zona liberata dalla demolizione di Casa Salvoni e della parte ancora in piedi di Palazzo Adamoli. Si tratta di un'operazione che consentirà alla soprintendenza di accertare l'eventuale presenza di reperti nel sottosuolo prima dell'avvio dell'opera che consentirà di recuperare la cave e gli spalti. L'epocale storico inizia di fatto il cantiere del secondo lotto di completamento, cioè quello che dopo la demolizione dei Palazzi Adamoli e Salvoni, perché il cantiere è già iniziato qualche anno fa con il primo intervento di liberazione del teatro, parte la rifunzionalizzazione piena del teatro romano, la riconsegna alla città, parte con i lavori di scavo, di scavo archeologico e di restauro parziale con una parte, un intervento pilota. È stato un obiettivo che abbiamo affrontato fin da subito, aggredito fin da subito, abbiamo prima fatto tutta la progettazione, intercettato le risorse del contratto di istituzione di sviluppo e oggi c'è anche la notizia importante del raddoppio del finanziamento, perché i 7 milioni 750 che erano a valere sul PNRR, li abbiamo conservati e serviranno a completare l'opera anche nell'area esterna, nell'area ovviamente circostante del teatro romano. Costo complessivo dell'opera, circa 18 milioni di euro, durata dell'intervento circa mille giorni, uno spazio archeologico che ricordiamo è destinato a diventare un'area da 600 posti per spettacoli l'aperto. Presidente, oggi è una giornata storica per la città di Teramo, questo è anche frutto dell'intervento della regione Abruzzo? Sì, abbiamo selezionato tra le tante proposte che i comuni presentarono in risposta al contratto istituzionale di sviluppo del SIS, ma questo progetto per il teatro romano, erano all'epoca finanziati soltanto una prima parte, un primo lotto di interventi e come regione abbiamo voluto selezionare tra i progetti più significativi di quel contratto di sviluppo questo progetto, preferendo anche concentrare le risorse su un progetto significativo che desse un'impronta importante, che lasciasse una traccia importante, quindi oltre 7 milioni e mezzo di finanziamento sui circa 16 complessivi che toccarono all'Abruzzo per realizzare un'opera che io credo davvero segnerà la storia di questa città.